bene a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Red Dead oggi siamo alla festa di file anno con Stibia23 e come potete vedere dietro di noi c'è il mare, penso che lo sentite oh che bel rumore 9 giugno 2017, fine scuola, fine elementari per noi, inizio media hashtag buona fortuna nego man e adesso abbiamo appena finito la recita e di mangiare la cena con le maestre e poi abbiamo dato e sono le 11 e mezza e sono le 11 e 38 ragazzi quindi pensate qua ci siamo minimo fino alle 2 di notte e niente adesso noi abbiamo finito la recita e l'ho dovuto fare una parte per terra che mi sono preso scurmi in una maniera proprio impossibile che mai nessuno ha provato e niente adesso video e dopo questa parola hashtag rapoletano nei commenti e in questo video vi faremo vedere i nostri amici e adesso stopperò e ve li faremo vedere ciao a dopo ragazzi come potete vedere questo è diamond 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 e lo vedete molto nel canale simbio 23 e forse anche in questo perché è l'amico con cui usciamo più di solito a cellule e adesso vi mostriremo domenico allora ragazzi questo è domenico se la vedete un po' la faccia strana ma è proprio così forse lo vedete nel canale forse lo vedete nel canale simbio 23 e vi ho detto nei momenti in cui lo nei momenti in cui usciamo con lui oppure potremo fare video quindi adesso mi presenteremo Maya questa è Maya e penso che questo non lo vedete nei video in cui usciamo forse nel video del canale simbio 23 e anche in questo di Vire Dead forse nel mio lo vedete io ci sono in un tuo video i pazzoidi mi sembra due e niente adesso vi presenteremo Asia questa è Asia forse anche lei lo vedete in qualche video di Vire Dead e nel video vlog lei è come sfondo con una faccia proprio di Vire lei sta nel video i pazzoidi 1 e i pazzoidi 2 e certo mica pazzo ma io non mancherei mai adesso vi faremo vedere Gabriele ciao ragazzi questo è Gabriele che molto probabilmente lo vedete in questo canale in quello di Davide quindi vi vedete simbio 23 e ora fate vedere io come scavo fate vedere Silvano come scava la buca Gabriele vattene e adesso mi fate vedere come scavo la buca aspettate un attimo e ragazzi dopo che avete visto Davide noi vi faremo vedere tutti i nostri amici insieme adesso facciamo vedere ragazzi come potete vedere nel video prima l'abbiamo stoppato per sbaglio e niente adesso girate qua Davide che se no non ti si vede e adesso fate un saluto finale che lo farà Davide e finiremo il video vai Davide e dai vi vedete tutto noi ci vediamo nel prossimo video un saluto a tutti grazie a tutti